È iniziato questa sera, queste 24 ore di scioperi sparsi un po' in giro in tutta l'Italia, a partire ovviamente qua dal Veneto, ma dal Piemonte, Lombardia, poi Emilia Romagna, Lazio e Campania. Da questa sera appunto abbiamo cominciato a dar vita a una grande iniziativa di lotta che si pone obiettivi molto importanti legati sia al rinnovo del contratto nazionale ma anche alle politiche governative in termini di lavoro e di politiche fiscali. Quindi da questa sera insomma anche qua da Padova abbiamo già iniziato sia prima con un blocco davanti all'entrata di TNT, DHL e altri magazzini che sono già stati chiusi. TNT ha deciso poi di chiudere, GLS ha chiuso, DHL ha chiuso e adesso siamo davanti ai magazzini di Artoni e Bartolini dove il presidio continua e continuerà ancora per molte ore. Grazie a tutti.